Signori, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio Camera 89 per un nuovo video di degustazione incredibile e pazzesco perché oggi da Burger King è uscito lo Sheriff Burger Per due menu abbiamo pagato 24,60€ e qua dice un Whoppers gratis, facci sapere cosa ne pensi Io vi faccio sapere cosa ne penso Quindi abbiamo panino Panino Patatine e patatine Dov'è il mio Whoppers gratis, amore? Non ho capito io Non c'è nessun Whoppers gratis Qua c'è scritto Whoppers gratis Signori, ci abbiamo lo Sheriff Burger col manzo e lo Sheriff Burger con il pollo e adesso la mia segretaria mi dirà gli ingredienti degli Sheriff Burger Valiere o buone? Molto Scamorza bianca Bacon Bacon Soncino fresco che lo salutiamo e salsa 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 Bullside 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 Sweet Whisky qui c'è scritto chicken è meglio rispetto all'altro secco che se ci divento io così arrivo a 70 kg e neanche me ne rendo conto è di una seccagine questo hamburger cotto troppo e super 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 secco mamma mia che brutto pollo che bruttezza questo pollo è tutto vecchio tutto messo lì brutto mamma mia come puzzano sti panini ti giuro non è un dissing ma puzzano proprio mamma mia no fermate tu tu fermati no non ti voglio sapere sentite vado all'assaggio di quello col pollo ma boh regà sembrano brutti 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 poi si sa che uno deve pure fortuna oggi è domenica ci avranno avuto un sacco di persone ma minchia il pollo così c'ha tipo una settimana e mezzo è tutto sfaldato vabbè dai andiamo avanti mamma mia provo di nuovo all'assaggio questo ma penso che questo sia peggio di quest'altro ripeto Burger King io non ce l'ho con te questi tantissimi dei prodotti mi piacciono stai fermo sto lasciando che la carne è secchissima non mi piace ma proprio il sapore di questa salsa non mi piace proprio questo ti giuro mezzo panino giusto perché va classificato questo qua un panino e mezzo su cinque no si imbaffito di amore papà credo di non poterlo giudicare bene perché mi è arrivato proprio brutto regà ma proprio brutto è proprio una roba bruttissima io capisco che questi vanno mangiati lì per lì però se mi fai l'ordine a casa c'è un motivo regà abbiamo ordinato già Burger King McDonald a casa e non erano mai arrivati così secchi e brutti e brutti 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 ma a prescindere da seccaggine e della bruttaggine ma sono proprio brutti regà ma poi questo è proprio l'apice della bruttezza minimamente proprio brutto sento questo sapore brutto in bocca il sungino è squaiato non è più sungino ve l'ho fatto vedere cioè tutto spappolato tutto vecchio tutto il bacon è messo qui a prendere il sole il formaggio è diventato una cosa unica purtroppo non la fai finta che anche se fosse stato curato male se era buono era buono qui regà ci ha detto proprio sfiga 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 e quindi non ve lo so valutare questo è il sungino io non so se dal telefono si può vedere quanto si è cotta questa insalata eppure ci hanno messo dieci minuti ad arrivare qua quindi questo è una roba che già c'avano pronta da dietro la camera e voglio che tu ci dica una tua opinione perché veramente cioè a prescindere non credo che sia buono provatelo andatelo a mangiare fatemi sapere che cosa ne pensate no ma è proprio brutta la salsa cioè fai finta il formaggio è vecchio il sungino è capito è tutto un po' eh ma pure la salsa la salsa non è così piacevole oh questi sono i miei gusti personali e non ti dico cioè questo è leggermente meglio provalo mamma mia regà no ma ci ha detto male ci ha detto malissimo regà è una roba che c'avano lì ferma se lo sono dimenticati io cerco di farvi vedere l'interno ma si nota che è vecchio cioè facciamo una cosa amore andiamo a riprendere dal video adesso? ma no adesso amore un altro giorno eh no se uno doveva far figo ci andavi adesso ma se no un altro giorno che fai? cioè non è che mi vado ad andare però non potremo fare sti video che poi se li vediamo la prossima puntata ma regà fanno schifo eh non è cattiveria lo so che schifo non si dice ma non mi piacevole no cioè mi dispiace le patate proprio no le patate sono buonine regà ma io penso proprio che sia proprio che madonna ma che cosa è successo cioè credo che sia una roba no credo che sia proprio brutto il panino posso dirlo? cioè credo che sia brutto il panino sì non ne vale proprio la pente mi dispiace il cibo non si butta ma neanche a neanche a mangiare questa roba perché no ma è proprio ma è proprio la carne cioè è proprio brutto 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 per dare tesi a quello che vi sto dicendo vedete questo è il mio hamburger che si nota palesemente che sia secco e troppo cotto guardate il songino che è tutto moscio tutto spappolato il formaggio ormai è è duro e vi faccio vedere la cotoletta eccola qua questo è il panino con il pollo stessa situazione di prima col songino che è diventato scuro e la cotoletta eccola qua si vede che è vecchia non è più croccante ed è tutto appiccicaticcio di solito questa beh bah a few moments later signori sono uno youtuber eccezionale perché siamo comunque venuti a Burger King fa freddo è domenica siamo andati a Burger King dove c'è un ragazzo che mi conosce ormai da anni e li abbiamo ripreso i panini sono bollenti non avete idea sono bollenti madò e se vede che questo è fatto mo tieni regà il formaggio ancora fila ragazzi il formaggio ancora è filante oh è un'altra cosa la cotoletta mo regà perché voi non lo vedete vada uno è fumante io vedo il fumo non so voi se lo vedete se sta fanno il songino è giusto la cotoletta è croccante vado eh vediamo così pensate che roba una roba buce pure le patate ancora è meglio si sente pure l'odore che piace però non ho trovato la salsa ma hanno messa qua ah ecco l'odore sembra buono questo pure invitante brucia eh molto molto meglio di prima però la salsa non mi convince però è molto molto più buono di prima però di base il panino non mi entusiasma quello ok però non è che si presenta così no no adesso è giusto guarda che bello così sembra quasi un panino vero col songino ancora tutto quanto sano sì la salsa è un po' particolare la salsa è sì parecchio particolare eccolo qua vado a provare questo di carne molto più buono è molto più buono però il panino di per sé non mi fa impazzire è molto buono quindi prima abbiamo avuto assolutamente problemi però io vedo una grande differenza è succoso questo no no è succoso guarda guarda qua è vero la carne è cotta bene il formaggio è ancora filante il songino è fresco c'è tutto è buonissimo così buono però al mio gusto personale non mi piace molto la salsa è un po' particolare ti deve piacere guarda io do un tre e mezzo a tutte e due perché bene o male bene o male quello è cioè bene o male il panino quello è non è che cambia e forse lo sai che preferisco di più questo adesso questo col pollo quindi do tre a questo e tre e mezzo a quell'altro cosa che invece prima a casa avevo dato mezzo panino a questo col pollo quindi pensate quanto cavolo cambia e pensate che bravo youtuber che sono e che siamo che siamo riusciti per voi per fare questo test adesso io no 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 basta basta sono pieno tu sei bella no grazie no vabbè comunque se vede bene dai non mi state a scassare questo a me piace ti piace quello col pollo? sì molto mi piace molto sì eh ma poi in questo periodo sono più per pollo che per carne ma questo in realtà è da se state comunque ragazzi se siete arrivati fino adesso vi voglio bene grazie mille spero che abbiate apprezzato questo nostro impegno e vi voglio ricordare che il 13 novembre starò al centro commerciale Porta di Roma verso le ore 16 voi venite un pochino prima al Media World perché ci incontriamo castiamo un torneo di Rocket League se vogliamo bene si abbracciciamo famo le foto facciamo un piccolo recap i panini di prima facevano schifo ma allora che dobbiamo pensare che non va bene non va bene il delivery no il problema non è il delivery perché quei panini no perché quei panini quei panini che abbiamo fatto vede prima erano panini che secondo me almeno c'erano 40-50 minuti cioè il delivery quanto può tardare 10 minuti non ti arriva che fuma il panino ma comunque è buono perché l'hamburger era stracotto il pollo non era più croccante era bruciato era tutto mollo appiccicato era proprio brutto questi sono altri tipi di panini ripeto il fast food va mangiato appena fatto ed è palese ma c'è stato qualche problema c'è stato qualche problema eh sì dovrebbero fare attenzione a queste cose poi non è che tu vai da Glovo e gli dici oh ma ha fatto schifo e ti rimborza cioè non è quello no eh la panese sono fatte mo oh e non dite che non vi vorremmo bene ma fa frega a voi come in pigiama lei in pigiama io no però mi andava proprio di uscire i mortacci poi ho detto sai che ce ne sembra sempre che io non volevo fare cose fatte per bene alla fine ci avevamo ragione noi faceva schifo il panino io già mi immagino quelli che hanno scritto eh ma te stai sempre a lamentare te stai sempre a lamentare in culo perché non ci credevate ma noi se lamentiamo perché ci succedono le cose a voi non vi succedono che dobbiamo fare abbiate a voi vabbè ma perché noi viviamo siamo persone che rischiano vivono ciao belli ciao bellezza estreme Grazie a tutti.